80 militari impiegati con l'ausilio delle unità cinofile, 11 ordinanze di custodie cautelare, 9 in carcere e 2 agli arresti domiciliari eseguite in contemporanea nelle province di Messina, Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Varese ed in Spagna, 170 grammi di chetamina, 835 pasticche di ecstasy con marchio Rolex sequestrato e solo durante le perquisizioni di oggi a sostegno del quadro indiziario. Questi sono alcuni dei numeri dell'operazione Caffè Blanco portata avanti dagli specialisti del GICO, del nucleo di polizia economico e finanziaria di Messina, sotto la direzione della procura distrettuale antimafia. Un'accurata attività di investigativa partita proprio da Messina e avviata nell'agosto 2017 all'aeroporto di Ciampino, dove personale in servizio aveva rinvenuto un pacco apparentemente contenente caffè, rivelatosi poi contenente un chilogrammo di cocaina e destinato alla 32enne messinese Tindara Bonsignore. Nello specifico, al seguito delle indagini emerso come spedire la droga, era stato il colombiano Carlos Manuel Ramirez de la Rosà, 35 anni, aiutato dalla compagna cubana Magali de Sanchez e Cevarria, 33 anni, ad attendere la droga in Italia. C'era la coppia Antonino Di Bella, 40 anni e Tindara Bonsignore, per conto del conosciuto narcotrafficante catanese Salvatore Alfio Zappalà, 42 anni, un soggetto contiguo al clan mafioso Laudani di Catania per il tramite del suo factotum Carmelo Antonio Sangricoli. Un sodalizio nato in carcere all'interno della casa circondariale di Caltanissetta, dove Ramirez, Zappalà e Di Bella si trovavano ristretti e pronto ad espandersi in Olanda, Spagna e Malta. La droga di bassa qualità e quindi pericolosissima per la salute degli avventori era destinata ai locali delle province di Messina, Catania e Siracusa.